Il pienone, quello che si augurava l'organizzazione, quello che ha dimostrato quanto la manifestazione fiera AgroExpo continui a crescere e riscuotere successo. Al consorzio di Bonificano c'era Pagani fino al prossimo 2 novembre l'edizione 2014 di quello che ormai è diventato un appuntamento classico dell'autunno nel nostro territorio. 7.000 metri quadrati di possibilità per esporre i propri prodotti, farli conoscere ancor meglio al pubblico, che ha corso davvero numeroso nella serata di ieri. Serata che è stata incentrata anche sullo spettacolo con la presenza dell'attore di Made in Sud Paolo Cagliazzo, quello dell'Acapamia non è buona, ma alla fiera AgroExpo, evento su cui lavora praticamente tutto l'anno Gerardo Lepre, fa ripuntati sul matrimonio con Dimmi di Sì Speciale Nocera, il salotto dell'usato senza trascurare i settori commerciale e agroalimentare. Questo splendido evento che si sta tenendo in questi giorni al Consorzio di Bonifica Nocera Inferiore, questa sera oltre allo spettacolo grandioso con il nostro ospite Paolo Cagliazzo, vi invito, vorrei invitarvi ancora perché fino al 2 novembre siamo qui con questa fiera che ospita delle grandi eccellenze nostrane e soprattutto per quanto riguarda l'ambito della moda, quindi non mancate a questo appuntamento. Accoglienza sublime, subito mi hanno preso, sequestrato, vieni qua, vengono qua, vengono qua, è bellissimo, è bello poi vedere quando vengono valorizzate le realtà nostrane, lo sapete io sono un Made in Sud 100% e difendo la nostra terra come quando e dove, sempre. Siamo partiti un po' in sordina, poi adesso il pubblico ci sta seguendo sempre di più, gli ascolti sono sempre in crescita e le affermazioni sono del gruppo, un gruppo che lavora da molti anni insieme, eravamo tutti insieme 5-6 anni fa quando abbiamo iniziato su Come Disentra, poi siamo approdati il Rai, abbiamo fatto moltissime puntate e continuiamo ad andare avanti, grazie soprattutto al sostegno del pubblico.